Per arrivare a Pansi Lapin adesso sono cambiate un po' le cose rispetto al primo video che feci qualche anno fa. Hanno fatto un allungamento della metropolitana, la MRT, e quindi potete scendere a Pank Pai, lo faccio vedere, Pank Pai, e da qui sono circa 10-15 minuti a piedi. Dovete prendere Pekasem Easy 20, il 20 si dice Easy. Pansi Lapin. Qui a Pansi Lapin ci sono un sacco di ristorantini direttamente sul Klong. Il Klong è questo canale che scorre, su cui ogni tanto passano delle long tail boat, quelle tipiche barche tailandesi. Quindi prima di arrivare a Pansi Lapin potete concedervi una buona noodle soup direttamente qui sul Klong. Semlek, si chiamano Semlek questi qua. Sì. 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 Secondo Razuli, stand take by a Pank Greater, è una forno di Pankh Pearson, mi bemmi Terzo legati. Eh, pesante Beinghold, stai faccio l'caprazzo tra i오ïtube. Price to the上oppine forniaating. P главное di Pankh ballot. Ok, questo era solo per darvi un aggiornamento su come arrivare qui a Pansi Lapin, la Casa dell'Artista. se volete vedere un altro video su Bansi Lapin, la casa dell'artista vi lascio il link in descrizione qui sotto